Al via la seconda fase dell'intervento di restauro su Ponte Buriano. I lavori prenderanno avvio nei primi giorni di luglio, ma il ponte sarà chiuso per 45 giorni al traffico veicolare dal 16 luglio. Dopodiché la seconda parte dei lavori, che sono lavori marginali, verranno effettuati con il traffico leggero transitabile, quindi aperto. Si tratta della seconda fase del restauro conservativo del Ponte Romanico del 1200, che sarebbe stato immortalato da Leonardo da Vinci come sfondo della celebre gioconda. I rosti su cui interviamo i primi tre rosti, il rostro numero 2 Montevalli e il rostro 3 Avalle, hanno delle importanti lesioni sulla parte corticale esterna della muratura. Quindi occorre intervenire e capire se è solamente nella parte del rivestimento o se interessa anche la parte interna del contenitore del terreno. Successivamente andiamo nei rostri successivi, quindi il rosto 5 Montevalli, che deve essere reintegrato come apparecchio murario, e poi successivamente, intervento quello più veloce, di ristuccatura di tutti gli altri rostri. Un intervento da 700 mila euro in totale stanziati dalla regione toscana. Questa è veramente un'opera bellissima, specialmente andiamo sotto le arcate, vediamo anche la maestrosità e l'imponenza anche di un'opera che è resistito a tutto direi, a tutto. Però ora insomma la sofferenza è una sofferenza che andava un po' alleviata con interventi, perlomeno tampone. La chiusura al traffico dell'importante collegamento tra Arezzo e il Valdarno ovviamente porterà con sé qualche disagio, ma un'attenzione particolare è stata dedicata ai percorsi alternativi. Abbiamo cercato appunto delle soluzioni alternative che eliminassero quelle problematiche per il traffico, insomma che si erano purtroppo verificate nella prima fase dei lavori, ovvero il transito, comunque le mancate rispetto delle prescrizioni da parte dei mezzi pesanti. Per questo innanzitutto abbiamo previsto di mettere in campo delle opere di miglioria della sede stradale della strada alternativa, quella dello spicchio, con l'allargamento della banchina nei tratti più stretti e alcune risistemazioni e l'implementazione della segnaletica orizzontale. e soprattutto abbiamo appunto previsto l'installazione delle telecamere sia a nord che a sud che funzioneranno da deterrente per gli eventuali trasgressori.